Un sismo di magnitudine 6 e 5 si registrò in la noce di este martes in Idaho, USA, all'noreste della ciudad di Boise. Segur il Servizio Geologico dei Stati Uniti, il fuoco sismico stuvo localizzato a 10 km di profondità e l'epicentro si ubicò cerca di Beaver Creek, a lo largo delle montagne del Salmon River. D'accordo al reporte di USGS, la polizia di Boise scrivò in sua cuenta di Twitter che anche sentono il sismo. Non c'è reporte di daño in questo momento, mantenganci a salvo. Per il momento non c'è informe immediato di diritti, però i residenti di varie città hanno sentito il temblore. Il temblore Durante le ore sposteriore si sentono replicazioni in il suroeste di Idaho. Il USGS reporta almeno 10 sismi menoli, tutti in areas rurali. Il più grande fuori uno di magnitudine 4 e 6 a più di 64 km al est di Cascale di Idaho. Grazie e un saluto da Italia, Leandro, narratore italiano.